Ehi Giacomo! Cosa? Vorresti realizzare un sito web dove parlare di gatti? E ti hanno detto che hai bisogno di un professionista e di strumenti che ovviamente hanno un costo? Aspetta! La soluzione te la do io! Apri il tuo motore di ricerca e prova a digitare hosting gratis. Hai notato chi c'è in prima posizione? Hostinggratis.it Esatto! Proprio quel! Potrai ordinare un dominio di secondo livello, lo spazio web per pubblicare il tuo sito, un indirizzo di posta elettronica e un database. Tutto gratis! Inoltre, con pochi clic, potrai realizzare subito il tuo progetto grazie agli strumenti disponibili. Facile, no? Fai come Giacomo! Visita www.hostinggratis.it e crea gratuitamente il tuo sito web. Grazie! Grazie!